Ripartire dalla programmazione della rete ospedaliera per rilanciare una sanità capace di soddisfare il diritto alla salute e che non abbia come priorità il solo equilibrio finanziario. È il tema che è stato oggetto dell'incontro che, alla Sala Consigliare di Fratta Maggiore, ha tenuto il Sottosegretario di Stato del Ministero della Salute, Vito De Filippo, insieme con il Consigliere regionale del PD, Nicola Marrazzo, su iniziativa dell'Associazione Golgi, prestituta da Orazio Vitale, che riunisce i medici di famiglia del territorio. Come sempre si trovano eccellenze sia fra gli operatori sia fra le strutture, che hanno bisogno di un contesto e anche di un conforto di programmazione, di iniziative più generali che la Regione dovrà mettere in campo nei prossimi anni per far uscire definitivamente questo territorio da una storia che è stata una storia complicata, non solo in termini finanziari ma anche in termini di servizi. Di sanità negli ultimi tempi se ne parla poco, si parla solo in termini di ragionieri che sistemano i conti, ma non tengono in conto soprattutto la salute dei cittadini perché le condizioni che hanno determinato il debito esistono a tutt'oggi. Non c'è stato nessun intervento strutturale affinché da domani si possa ripartire, ricominciare ad avere un assessore alla sanità, ricominciare ad avere la sanità come è un momento di discussione in Consiglio senza aver apportato nessuna riforma strutturale che non determini di nuovo un debito. Ha preso parte all'iniziativa anche il sindaco di Fratta Maggiore, Francesco Russo, per il quale occorre mettere in campo una forte sinergia tra istituzioni e medici. Veramente un esempio importante, insomma, un sottosegretario di Stato qui a Fratta Maggiore a incontrare le associazioni, soprattutto a incontrare la cooperativa dei medici di base per avere contezza dei problemi ovviamente sul territorio e soprattutto delle problematiche che affliggono non solo praticamente i medici di base ma la cooperativa, ma sotto tutti quelli che sono i servizi che ovviamente il Servizio Sanitario Nazionale eroga sui territori. Quindi un rapporto appunto come si diceva territorio-stanità per migliorare ovviamente i territori e perché no? Per far sì che praticamente la rete dei territori sia sempre più potenzata e i pazienti possono, come dire, essere tra virgolette deospitalizzati, cioè praticamente usare meno gli ospedali e soprattutto usare quello che è la prevenzione e quelle che sono le cure.